allora ho presentato prima il punto rococò con le varie prove rosa ecco il punto rococò rosa giallo tutti i conchiglioni rosa giallo da un sito dell'america latina questa nuova qua rosa e giallo sono quelli che devo avere poi fucsia eccolo il punto rococò arancio arancione eccolo è bello davvero fa scena e rosa acceso che è quello che sto la il colore che sto lavorando adesso ecco qua e dicevo che questo è preso da un sito di una di una esperta dell'america latina spagnolo e lei fa naturalmente di più prende vedrete dieci volte e venti volte il filo per ottenere voi per esempio questa facciamo questa si vedrà meglio per le prese di filo per fare queste colonnine imbottite sono venti e poi fa passare il l'uncinetto col filo in mezzo ed è molto difficoltoso per cui io ho fatto le prove con dodici per queste qua per esempio e ci vuole tanto tanto tempo invece mi sono fermata a dieci che è un po più agevole anche perché ho capito la tecnica come lei faccia per come dove fare per forza per far passare questo filo e con dieci insomma è più agevole la il lavoro allora si comincia con una catenella eccola qua di 29 niente una striscia di 29 catenelle poi si girano le le ultime dieci in maniera che cinque con un mezzo punto viene fissato venga fissato qua venga fissato al ecco qua questo questo anellino insomma iniziale sono in totale uno due tre quattro cinque si eh catenelle eh catenelle e viene fissato con un mezzo punto nella eh in pratica nella sesta catenella poi facciamo ehm ehm cinque catenelle ancora eh cinque catenelle si una due tre quattro cinque e facciamo nella eh uno due nella quattro catenella una v io la chiamo la v sono un punto alto una maglia alta tre catenelle e ancora una maglia alta nella eh nello stesso punto va bene così ecco dopo ancora facciamo ehm ehm tre catenelle uno due e tre e ci appoggiamo a mezzo punto alla catenella di base la terza di distanza ancora eh tre catenelle una due e tre e ci appoggiamo alla uno due e ci appoggiamo uno due e ci appoggiamo uno due e ci appoggiamo uno due tre alla quarta catenella con un punto bassissimo così e qui qui abbiamo il la prima parte del lavoro così da qua a qua e poi adesso facciamo la seconda parte specularmente insomma facciamo quindi facciamo le cinque come come questo punto qua le cinque ehm una due tre quattro cinque e facciamo mezzo punto uno due tre e quattro alla quarta eh poi facciamo tre catenelle questo sarebbe questo passaggio qua andando eh specularmente e ehm il mezzo punto avviene nella nella una due nella terza qua così va bene così ecco viene così e poi abbiamo ehm a questo punto abbiamo allora uno l'abbiamo fatto e dobbiamo fare la v vabbè uno e due facciamo la v qua uno 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 due tre in mezzo e l'altra l'altra parte della v o del triangolo come vi pare dopo di che facciamo ehm cinque catenelle eccole qua queste qua una due tre quattro cinque e le fissiamo con mezzo punto qua qua ehm all'estremità rigiriamo il lavoro adesso e facciamo ehm il lavoro insomma facciamo il lavoro e abbiamo ehm tre ehm tre catenelle due e tre e con mezzo punto la fermiamo qua poi facciamo due catenelle così e nella v dobbiamo fare otto maglie alte una due tre quattro cinque sei sette e otto dopo di che dobbiamo fare ehm dunque tre tre catenelle una due e tre e e ci appoggiamo qua alla secondo spazio con una maglia bassissima ecco poi andiamo in questo punto qua e facciamo che è ancora cinque una due tre quattro cinque e e ci appoggiamo alla alla all'estremità invece ehm ancora uno due tre e ci appoggiamo di nuovo alle 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 cinque successive con di nuovo col mezzo punto e abbiamo così poi abbiamo ehm per quest'altro allora cinque cinque e cinque sono pure queste quindi dobbiamo fare un altro spazio un una due tre ci appoggiamo a questo punto ehm qua ehm qua no ehm in questo spazio così e abbiamo qui ce ne abbiamo uno però e ehm una due tre e e andiamo a fare uno due tre un'altra uno due tre e e andiamo a fare uno due Echo letterrrüh come il nuovo nove tellio ed agecio così e poi abbiamo annoio che dobbiamo fare una due sette e otto quindi guardiamo di qua che cosa abbiamo fatto uno, due, uno, due, tre mezzo punto basso scusate, mezzo punto che sarebbe poi punto bassissimo e basta, è rimasto questo cosetto possiamo anche usarlo con tre uno, due, tre e infiliamo qua va bene? adesso dobbiamo rigirare il lavoro e facciamo il famoso punto rococò che vedrete da tanto tanto fastidio qui iniziamo con sette catenelle una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette allora per le rococò che abbiamo detto noi vanno infilate in ognuna di queste sette e i punti dobbiamo fare dieci prese di filo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci è questo qua che da fastidio e riesce veramente difficile far uscire ecco l'infilatura come è fatta bisogna reggere il lavoro questo qua, vedete reggerlo in maniera di stringere il filato questo punto qua e poi estrarre il filo e quindi rifaccio questo passaggio non tutto, logicamente se poi non mi ripieno sto a posto ecco questo è il filo che ho estratto poi riprendo il filo di lavoro e lo faccio passare qua ancora altri sette uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci e lo mettiamo nel secondo punto alto così e di nuovo dobbiamo stare attenti in maniera da trattenere tutte queste prese e far passare per bene il filo dentro con l'uncinetto può non riuscire, ripeto però ecco quando non riesce si riprova tutto qua la difficoltà cioè è inutile negarlo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci ecco diamo una sestatina, una allargatina magari andiamo alla terza vediamo che cosa succede qua allora cerchiamo di allargare dicevo poi teniamo stretto questo lavoro e facciamo passare il filo con l'uncinetto dentro ecco qua è riuscito anche questo guarda non mi pare vero dopo di che ancora dieci infilature dieci prese di filo uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette, otto nove, dieci si infila nella quarta maglia alta che fa di base e ancora si fa una presa di filo si stringe quelle che abbiamo già preso si stringono e si cerca di estrarre il niente questo non è riuscito allora ripetiamolo lo ripetiamo perché succede succede tante volte uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette, otto, nove e dieci ecco teniamole un po' larghe non da stringerle attorno all'uncinetto così per farla riuscire e questo è il metodo stringere il lavoro e tirare su ecco questo è riuscito per esempio adesso eh a volte esce un pezzetto solo di filo e noi abbiamo comunque dove lavorare ecco riprendiamo questo e facciamo in questo modo ce n'è ancora uno, due, tre, quattro cinque, sei, sette otto, nove e dieci teniamoli un po' lenti eh mettiamoli nell'altra maglia alta facciamo così infiliamo prendiamo il filo e facciamolo passare qui in mezzo in mezzo a queste prese cercando eh di farlo passare appunto quindi teniamo strette queste maglie così ecco e esce il punto esce poi lo prendiamo prendiamo il filo e passa attraverso questa catenella anche questo punto di rococò uno, due, tre, quattro al quinto stiamo è riuscito beh insomma sta dicendo bene uno, due, tre quattro, cinque, sei sette, otto, nove e dieci e infiliamo nella settima dopo di che prendiamo il filo eccolo e prendiamo il filo ecco teniamo stretta questa serie di prese così facciamo passare il filo in mezzo all'oro in mezzo all'oro ecco qua non è venuta bene quindi la rifaccio va bene perché poi si creano troppi uno, due, tre quattro, cinque sei sette otto nove e dieci e la mettiamo nella settima ecco qua allentiamo un po' queste prese teniamo stretto questo lavoro e facciamo passare bene il filo in mezzo eccolo che è uscito è uscito e lo riprendiamo lo chiudiamo con il filo che sta al basso in modo da formare questa stanchetta qui una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci mettiamo qui così infiliamo quindi prendiamo il filo e dobbiamo passare di nuovo in mezzo alle prese di filo speriamo bene eccola qua non è uscita proprio tutta però è uscita abbastanza e ci permette di lavorare ecco lo prendiamo il filo ci permette di lavorare che poi uno può anche allungare quando il filo è estratto può allungare il filo stesso e questi e queste barrette bombate vengono più lunghe allora ancora abbiamo una uno due tre quattro cinque sei sette otto sì uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci e ancora infiliamo nell'ottava maglia bassa che sta sotto usciamo col filo e cerchiamo di prendere quest'ultima ecco qua è uscita bene vedete come si estrae il filo così allora se se vogliono più lunghe queste barrette si deve sfilare di più questo si deve tendere di più il filo in questo senso prendiamo il filo e chiudiamo a questo punto ci troviamo qua allora facciamo uno due tre quattro cinque catenelle e infiliamo in queste qua in queste ecco bene ancora cinque catenelle così una due tre quattro e cinque e andiamo a appoggiarci e dobbiamo ci dobbiamo appoggiare per forza no facciamo così allora ancora tre catenelle no cinque catenelle qua poi c'è quest'altro punto qua allora cinque catenelle ancora una due e tre e ci appoggiamo qua alla successivo al successivo spazio e ancora cinque catenelle una due tre quattro cinque e andiamo a fare qui il punto rococò direttamente sopra le otto le otto maglie alte che abbiamo come queste eh allora prendiamo dieci volte il filo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci lo infiliamo nella prima maglia alta così adesso dobbiamo far passare il filo in mezzo alle infilature alle dieci infilature eh non il filo con l'uncinetto logicamente speriamo che venga alla prima presa mi pare di no stavolta sì invece è venuto è venuto doppio qual è vediamo subito qual è è questo qua eccolo eccolo qua vediamo ecco sì è abbastanza e poi chiudiamo con il filo che sta sotto così vabbè è un po' larga la catenella possiamo aggiustare il lavoro una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci infiliamo il tutto nella seconda maglia alta facciamo così e prendiamo il filo dobbiamo far passare l'uncinetto nelle prese di filo eh che abbiamo detto dobbiamo tenere stretto le prese strette e poi tirare il filo e farlo passare dentro fino alla fine in maniera che venga la barretta panciuta poi chiudiamo questo filo così come vedete insomma questa è più panciuta ancora una una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci eh e infiliamo nella terza maglia alta facciamo in questo modo adesso prendiamo il filo e lo dobbiamo far passare in mezzo a queste dieci infilature ricordatevi dobbiamo tenerle strette e far passare il filo il filo vedi esce vedete come è uscito bene e poi si prende il filo di lato e si fa passare nella catenelle ancora una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci eh si mette nella siamo alla quarta ancora eh così allora prendiamo il filo reggiamo le infilature e cerchiamo di far passare dritto dritto il filo se no siamo buggerati non è dritto dritto ma è uscito lo stesso ecco qua ci ho messo dieci pure di più lavorazioni prove eh sfilature infilature eccetera per arrivare a questo punto eh perché non è facile uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci ecco le lasciamo sempre un po' larghe eh non stringete eh l'invilatura insomma eh entriamo nella paglia alta di base in questa qua riusciamo adesso deve passare eh questo filo qua con l'uncinetto nelle prese di filo allora tenetele strette attorno all'uncinetto tirate il filo e vedrete che esce ecco non si inceppa per niente volevo dire qualcuno ha cercato di fare una variante ma non non mi pare che abbia ottenuto il punto rococò cioè non c'entra niente perché il filo che viene estratto non si lavora passa dritto dritto attraverso le infilature quindi lavorarle una per una e poi arrivare a una stanchetta più o meno lunga non è la stessa cosa almeno non secondo la tecnica che ho visto io una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci infiliamo nella settima se non sbaglio la settima ci siamo di nuovo la presa di filo teniamo strette tutte le prese precedenti facciamo passare l'uncinetto col filo e è uscito tranquillamente oddio tranne uno ecco viene un po' bombata vabbè si gira un po' di più il filo e si allunga poi si prende il filo laterale come sempre e si fa passare nella catenella sopra viene così il lavoro di nuovo abbiamo una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci allora infiliamo nell'ottava maia alta del giro precedente infiliamo il filo lo prendiamo reggiamo bene stringiamo con le due dita così le infilature precedenti e dobbiamo far passare questo filo in mezzo alle infilature con l'uncinetto naturalmente ecco qua se si tengono bene il filo non tradisce perché può uscire diecimila volte veramente adesso facciamo il passaggio della chiusura così ne rimane uno allora fino adesso abbiamo visto abbiamo lavorato le otto qua una due tre quattro cinque sei sette ne manca una sola insomma una due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci noi facciamo dieci infilature perché venti niente non 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 me la sento allora di nuovo reggiamo bene il lavoro questo qua stringiamole all all'uncinetto e tiriamo bene il filo così ecco in questo modo è difficile che non esca può però a cadere ugualmente perché è un punto molto molto delicato insomma dopo di che facciamo come abbiamo fatto qua sette catenelle credo per chiudere insomma per chiudere una due tre quattro cinque sei sette e ci appoggiamo chiudiamo qua dove abbiamo le cinque questo questo anellino questo anellino qua ci appoggiamo a due catenelle ecco così e chiudiamo ecco adesso il lavoro almeno la prima parte della tessitura è venuto in questo modo è carino è un punto veramente molto delicato se poi si fa più alto figuratevi insomma che succede e adesso dobbiamo ricominciare e ritessere quello che abbiamo fatto che abbiamo fatto nella base cioè tutti quegli spazietti che si incrociano più o meno fino a di arrivare al punto rococò allora questa la lascerei come prima parte e continuiamo nella seconda vi saluto e arrivederci alla seconda parte del punto rococò lococò Grazie.